Ciao ragazzi e ragazze, bentornati nei miei video. Solito disclaimer, tutti i contenuti di questo video non sono dei consigli finanziari e non dovete basare nessuna decisione dei vostri investimenti guardando questo video. Bene, sono riuscito a trovare piano piano delle novità, una novità interessante, un nuovo certificato della Leontech come al solito con una distribuzione di cedole settimanale, hanno ascoltato quelli della Leontech i miei appelli sulla loro pagina Facebook, sui loro social che gli chiedevo che a noi italiani piacciono i dividendi settimanali, gli avevo chiesti sugli indici, ci hanno portato questo qua e oggi lo analizziamo insieme. Non mi fa impazzire, però sempre meglio un certificato in più da monitorare, da studiarselo, da vedere come va, se finisce al cimitero dei certificati o se viene rimborsato, così magari la volta dopo ci aiuta a valutare meglio. Partirò ovviamente con questo perché il rendimento è del 16,8%, buon rendimento, ottimo dal mio parere, so che alcuni di voi amano il brivido, il 20%, queste cose qua. E comunque oggi sono riuscito a trovare ovviamente il nuovo nuovo, fresco fresco, questi tre sottostanti ancora non si sono avvicinati alla barriera e sta ancora più caro. E vi ricordo che facciamo un piccolo recap rapido, il Netflix Paramount, che era quello scelto da me l'anno scorso, sta a meno 26%, diciamo 26% lontano dalla barriera, Paramount, perché Netflix se n'è andata, e scadere a giugno del 2025, questa è costantemente sotto la pari, ogni tanto arriva a 999, perché il rischio c'è, Paramount è in balia di un bilionario americano che vuole acquistarla, quindi c'è da monitorare questa situazione ragazzi, nel frattempo sta pagando, non ha mai saltato una cedola, l'altro sta andando che rende un pochino di più, un po' più di tutti, credo 18,3%, è quello con Ferrari, Porsche e Tesla e si ritrova Porsche al 18,3% sopra la barriera, sta pagando anche lui, è abbastanza rischioso, più rischioso questo secondo il mio parere, scade a luglio del 2025, mentre l'altro a giugno, diciamo, sta costantemente anche lui sotto la pari. Questo nuovo è una scadenza 2027 e ha una barriera 60%, il che vuol dire che questi tre sottostanti non devono andare, non devono perdere dallo strike che è aggiornato a questi giorni, il 40%, altrimenti il rimborso si perde, almeno si può perdere anche il 40% o più, dipende da come si comporta il peggiore dei sottostanti. E andiamo un po' un attimino a vedere i livelli di questo certificato, c'è BPM, la nostra BPM, che batte 5,2%, quindi non deve andare sotto i tre. C'è Renault, che ha 35,8% e non deve andare sotto 21,5%, ha un piccolo dividendo, perché in questo caso, ragazzi, i dividendi non sono nostri alleati. Nel caso dei certificati, che il valore del sottostante deve essere più alto possibile, a meno che non è un certificato reverse, ma lasciamo stare, sono prodotti complessi, nel nostro caso non deve andare il Renault sotto il 21,5%, il Renault, sono andato a vedere, paga un piccolo dividendo. Sotto queste cifre c'è andata nel 20, nel 2020, nel 2022, quindi è rischioso questo certificato. Già siamo arrivati soltanto a BPM e Renault, BPM è un bel grafico, sta crescendo, però ragazzi, come nel certificato di Fineco, io vi ho detto più volte che le aziende italiane hanno avuto delle crisi che sono durate anni, perché no, può succedere la stessa cosa anche ai titoli che piacciono a me, che continuano a scendere. Dunque, scusate, è sempre un po' più freddo, qua le temperature sono quasi artiche, e andiamo a Volkswagen. Volkswagen ha un livello di strike a 118 e una barriera a 71. Nel 2020 è arrivata a 81, nel 2022 è scesa ma non è arrivata. Io però a Volkswagen, che siccome è una dividend stock europea, me la ricordo pure a 200, quindi me la sono ritrovata a 118 quando sono andato a vedere questo certificato, diciamo che il 40% l'ha già perso, vabbè, il livello di strike che ci interessa è questo, però è qui, questa è un po' la deboluccia, almeno oggi, ai primi di febbraio del 2024. E poi è un altro difetto questo sottostante e questo certificato. Volkswagen ha un grosso dividendo, e quindi questo dividendo va a pesare sull'andamento del titolo. Valutate voi, ragazzi, vedete l'ISIN, fatemi sapere cosa ne pensate. Io al momento lo boccio, ovviamente, questo è il mio parere, se non siete d'accordo fatemelo sapere nei commenti o sotto il post sulla pagina Facebook. Questo invece mi piace, mi piace perché è attuale, scade presto, sta a 94-95 lettera, adesso vediamo lunedì a mercati aperti dopo il mio video. È un BNP, un'emissione del 2022, mannaggia a me, dove stavo distratto mercoledì, ovedì, mi è sfuggito perché ero andato a cercare un po', mi sono fermato, non sono andato sul sito della BNP, ero andato a cercare qualche opportunità su Tesla, e ho trovato questo certificato, vedete, scorre nell'ISIN, con le 4 delle 10 migliori aziende al mondo, poi su un gusti delle più capitalizzate, emesso a febbraio il domenitamento che scade a giugno del 2024, potrebbe già andare a rimborso ma non ci va, comunque poco danno perché qua si prende una cedola e più sta sotto la pari. e questa era un'ex barriera 70%, cosa se ne è fatto di questa? I quattro sottostanti ovviamente erano Apple, Amazon, Meta e Tesla. Apple sta a più 37% dallo strike, quindi Amazon sta a più 60% dallo strike, quindi la barriera sta lontana 100%, Meta ha fatto un anno strabiliante, l'anno scorso sta a più 166% dallo strike, e qui veniamo a Tesla, che nelle ultime settimane, poi andrò a vedere come ha chiuso la settimana, ha sceso, è scesa, è scesa, sta trovando una sorta di pavimento, questo dovete valutarlo voi, l'unico sottostante di questo certificato, che paga, udite udite, l'1,3% al mese, e mancano, siamo a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, mancano 5 mesi in cui si incassa questa bella cedola, se non viene rimborsato prima, che Tesla dovrebbe reagire, che sta il 14% sotto lo strike, che sta al 16% di distanza dalla barriera. 232 era il livello di strike di Tesla, fatemi adesso, mi sono segnato soltanto la distanza dalla barriera, sono andato a vedere poi Tesla, fatemi sapere ragazzi se vi piace questo certificato, cosa ne pensate, perché per me tra i due è più interessante questo, si gioca tutto intorno a Tesla, fans di Tesla, che ce ne sono nella mia community, anche io sono un fan di Musk, perché ragazzi ha una mente eccezionale, ragazzi se avete domande sotto il video, sulla pagina YouTube, o sotto il post sulla pagina Facebook, alla prossima, mi fa sempre piacere se vi iscrivete al canale, mettete un like, alla prossima.